Non siamo un parchito, non siamo una crasta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno... Questo è il parco dell'Ondulna, è un parco pubblico, anche se sembrerebbe che sia il parco delle terre della Versilia. Ma ora io ti porto a vedere il cartello che dimostra che questo è un parco pubblico. Bello, eh? Il mare. E se lo volevano vendere, ora mi sembra che sia bloccata la procedura, per un milione e duecentomila euro, se non mi sbaglio. Comunque è una cifra irrisoria, un paio di appartamenti. I begli appartamenti, ma un paio di appartamenti. Per svendere un bene comune che è un parco pubblico. E questo è l'accesso del parco pubblico. Ben tenuto, eh? Mi sa che lo tiene l'Ondulna, eh? No, lo tiene il comune di Montignosi, come malintenzione. Però non è che ne sia proprio il generto. È bello il parco. Spettato che, di fatto, eccolo qua, è una parte di parcheggio. Anche questo dovrebbe essere pubblico. Là si può entrare, qua c'è un limitatore. E là c'è la struttura dell'Ondulna. E questo è il nostro parco pubblico. Bello? Mi piace, eh? Si potrebbe fare anche una festicciola. Oppure un compleanno di un bambino. Però, ecco, questo non è usato dalla cittadinanza. Forse è l'estate, qualcuno è un po' di fresco. Questo è un bene comune. Un bene comune che ci auguriamo non venga venduto. Che rimanga pubblico, che anzi ci vengano fatte delle iniziative. Anche per promuovere il territorio. È un bel posto. C'è la vista, la vista sul carchio, sulla croce, sull'altissimo. Siamo a due passi dal mare. E poi è un'ose anche per qualche animale. Insomma, è un posto da preservare e in mano pubblica.